Si corteccia tutti, tutti si corteccia Sì, 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 è lei che si corteccia No ma la cosa bella è qua, cioè che non lo fa bene Vabbè, torniamo solo per un istante dopo l'esibizione di Padre Apponso Ci sarà un video dimostrativo delle nostre attività che facciamo qua nella nostra comunità di Torre Gavita Questo dobbiamo sempre ringraziare il nostro Padre Apponso e tutta la comunità Un grande applauso, grazie Allora, Padre Apponso, lascio a lei la voce Sì, va bene Cosa ti devo lasciare? A te ti lascia stranavarti sicuramente No, no, no Gopi 3B, hai vincito il primo concorso Va bene, signori e signori Padre Apponso che ci fa ascoltare New York, New York I che lo ha aggiorni nostra No, Erino, non sortٹ construito No, erino, erino No, erino No, erino, non sеждino Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info 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 Grazie. Grazie a tutti.